Ciao mondo, oggi sono tornata con un nuovo video in questo video vi farò vedere tutta la mia collezione di borse che non pensavo di averne così tante mi è venuta l'idea appunto dall'ultimo acquisto della borsa che ho fatto appunto della mia nuova Michael Kors e è la mia prima Michael Kors e sono stra stra contenta perché è troppo troppo bella mi piace tantissimo quindi io adesso vi lascio al video mi raccomando lasciate un bel mi piace scrivetemi qual è la vostra borsa preferita giù nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video ricordo anche che in descrizione ci sono i miei 4 social network instagram, twitter, su e snapchat dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure direttamente il link in descrizione e adesso io vi lascio al video ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti